buonasera e benvenuti a tutti a questo nuovo incontro di spazio per tutti questa sera abbiamo un ospite speciale e poi ringraziare Silvano Tosi che è il nostro relatore di stasera io l'ho conosciuto personalmente è una persona che si ascolta ben volentieri bravo relatore molto preparato due parole su di lui è laureato e dottorato in fisica al momento un professore all'università di Genova si occupa dei corsi di fisica generale e del corso di fondamenti di astrofisica e cosmologia dal punto di vista della ricerca si occupa della fisica delle particelle elementari ed è stato due anni in California all'OSLAC e ha lavorato anche al CERN a Ginevra invece per quanto riguarda l'astrofisica si occupa appunto di astrofisica cosmologia e applicazioni spaziali e tra le altre cose fa anche misure fotometriche di transiti di esopianeti che mi ricordo una volta la facciamo insieme anche su al telescopio dell'antola e infine anche referì della rivista del journal of high energy physics bene penso di aver detto tutto lascio la parola a Silvano sì questa sera vorrei raccontarvi un po la storia degli elementi che ci compongono dal punto di vista dell'evoluzione dell'universo ok da cosa siamo composti beh se ci pensate come si dice siamo quello che mangiamo no quando siamo bambini cresciamo assumendo cibo poi un essere vivente appunto si alimenta muore viene decomposto da batteri e le sostanze rientrano ritornano in circolo quindi ciò che ci compone alla fine fa parte di cicli vitali che si sono ripetuti per per milioni di anni quindi volendo potremmo tornare indietro nel tempo se volete e ripercorrere la storia di ciò che ci compone di ciò che letteralmente ci compone le singole molecole che ci fanno e questo hanno fatto questo percorso potremmo andare indietro 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 fino agli albori della vita e le sostanze che ci compongono hanno avuto un'origine a un certo punto da dove sono nate da dove è nato il carbonio che compone le molecole biologiche da dove è nato l'ossigeno da dove è nato l'idrogeno questa sera proveremo a scoprire l'origine di questi elementi nella storia dell'universo sarà un percorso particolare vedrete che ci riporterà fino proprio ai primissimi istanti di vita dell'universo ho parlato principalmente di materia biologica perché è interessante sapere come è fatto il nostro corpo e da dove arriva quello che ci compone ma naturalmente la stessa domanda riguarda anche che ne so l'oro l'argento che vedete mostrati qui o del mercurio e così via e appunto cercheremo di rispondere a queste domande qui in questa slide vedete una misura dell'abbondanza dei vari elementi chimici osservati nel sistema solare la figura è in scala logaritmica quindi qui vedete l'idrogeno che è decisamente l'elemento più abbondante sulla sinistra poco dopo l'elio ma appunto non fatevi ingannare della loro vicinanza scala logaritmica quindi comunque l'idrogeno è molto più abbondante dell'elio poi a seguire ci sono gli altri elementi vedete il carbonio l'ossigeno e così via a scalare cercheremo quindi di capire tutta questa ricchezza di vari elementi chimici da dove sono originati e cercheremo anche di capire perché c'è questa grande differenza tra le loro quantità perché l'idrogeno e l'elio sono così abbondanti e gli altri invece via via sono a scalare beh qui c'è una foto di una rosa del mio giardino e come vi dicevo la materia sia quella inorganica che quella organica è composta alla fine della fiera da elementi che possiamo identificare facilmente per esempio qui viene mostrata una catena proteica insomma c'è del carbonio sono degli elementi che riconosciamo in ultima analisi le varie specie chimiche sono composte da un nucleo come ci insegnavano a scuola un nucleo di carica elettrica positiva fatto da protoni e neutroni attorno al quale orbitano elettroni appunto questa è la struttura atomica che conosciamo il diverso numero di protoni determina alla fine le varie specie chimiche quindi insomma questo lo abbiamo imparato tutti alle scuole no? il nucleo positivo attorno al quale orbitano gli elettroni negativi questo è l'atomo quindi la materia in ultima analisi è composta da atomi i vari elementi chimici sono soltanto diverse tipologie di questi atomi il nucleo atomico in realtà non è un oggetto elementare è un oggetto composito appunto da protoni e neutroni globalmente questi vanno sotto il nome di barioni a una tipologia di particelle che il cui nome cito qui ma non serve ricordarcelo nel corso della storia della fisica ci si è resi conto quindi che la materia si può analizzare vari livelli via via andando a livelli sempre più elementari da una molecola agli atomi che la formano l'atomo a sua volta che c'è il nucleo e gli elettroni e a sua volta il nucleo non è un oggetto elementare ma ha protoni e neutroni ci si è resi conto che anche protoni e neutroni se si va a vedere sono degli oggetti compositi sono fatti da degli oggetti che si chiamano quark i quark da un lato e l'elettrone dall'altro appaiono invece per quello che ne sappiamo oggi degli oggetti puntiformi elementari senza una struttura interna possiamo dire diciamo che come spesso è successo nella storia della fisica all'avanzare delle tecnologie è corrisposto alla scoperta di nuove cose mentre il nucleo una volta era considerato o prima ancora l'atomo era considerato elementare indivisibile poi il nucleo è stato considerato poi i protoni e i neutroni può darsi che un giorno scopriremo che quark ed elettroni elementari non sono però oggi siamo fermi qui che quark da un lato ed elettroni dall'altro ci appaiono come oggetti elementari in questa tabella sulla sinistra viene riportata una zoologia di particelle che vengono oggi ritenute elementari sono tante ma in realtà un solo sotto insieme di queste costituisce la materia che conosciamo in particolare soltanto gli elementi più a sinistra ci sono due tipi di quark up e down che sono quelli che costituiscono protone e neutrone ed elettrone quindi un sotto insieme piccolo costituisce gli atomi alla fine della fiera in questa tabella però ce ne sono tanti di più e in effetti ci si è resi conto insomma diciamo un secolo fa all'incirca che altre particelli che appaiono essere elementari non costituiscono la materia al giorno d'oggi non contribuiscono a fare l'atomo per esempio ma possono essere riprodotte da vari fenomeni alcuni da fenomeni naturali per esempio i muoni che sono qui in mezzo in questa tabella i muoni sono stati scoperti nei raggi cosmici per esempio e in vari processi sono stati scoperti o ricreati in laboratorio altri tipi di quark quindi se andate a formare una zoologia come avete abbastanza ricca questa tabella ha un sacco di elementi una zoologia di particelle alcune delle quali un piccolo numero costituisce la materia ordinaria ed altre non la costituiscono o almeno non la costituiscono più magari c'è stato un tempo brevissimo nella storia dell'universo in cui anche questi elementi c'erano questi altri quark, questi altri muoni e così via e poi sono stati la materia si è ridotta ad essere formata soltanto da un sottinsieme quindi il nostro viaggio sarà alla fine di cercare di capire dove hanno, qual è stata l'origine degli elementi chimici ma prima ancora qual è stata l'origine di questi sotto elementi che li compongono la storia dell'universo in effetti è una storia affascinante l'universo non è statico per nulla l'universo si espande questo è stato scoperto circa un secolo fa dal famoso misur di Hubble Hubble osservava delle galassie le galassie emettono tramite la materia che le compone degli spettri elettromagnetici uno spettro elettromagnetico quindi essenzialmente luce elettromagnetica qui rappresentata appunto dalla gamma dei colori questi spettri possono presentare tipicamente delle linee che corrispondono a tipiche emissioni o assorbimenti di elementi chimici quando un assorgente che emette questa luce elettromagnetica è ferma si osserva un certo spettro quando la luce si muove le linee spettrali vengono spostate corrispondentemente è un po' l'analogo dell'effetto Doppler che si ha in meccanica quello con cui tutti siamo familiari per esempio l'ambulanza l'ambulanza che passa dal nostro orecchio viene percepita con una frequenza diversa a seconda che sia in un allontanamento o in avvicinamento e questo fenomeno ha un analogo elettromagnetico che appunto è quello che stiamo mostrando quindi quando una sorgente si allontana da noi che è il caso in questa figura della galassia in mezzo le linee spettrali sono spostate più verso la zona del rosso quando invece una galassia si avvicina verso di noi le linee spettrali sono spostate di più verso il blu questa è l'osservazione che fu alla base delle misure di Hubble Hubble nel 1929 pubblicò questo famoso studio in cui di fatto ha misurato la velocità delle galassie in funzione della loro distanza e si rese conto che le galassie tipicamente avevano un'emissione spostata verso il rosso cioè erano in allontanamento da noi e non solo la velocità di allontanamento era tanto più grande quanto più le galassie erano distanti da noi che è quello che mostra questo grafico la velocità sull'asse delle y nella distanza sull'asse delle x la velocità è tanto maggiore quanto maggiore la distanza in maniera proporzionale con una retta quindi Hubble elaborò questa famosa legge di proporzionalità tra la velocità di allontanamento e la distanza questo porta a suggerire l'idea di un universo quindi in espansione le galassie si allontanano da noi tanto più velocemente quanto più sono distanti la costante di proporzionalità è la famosa costante di Hubble questo porta all'idea che quindi un universo che si espande vuol dire che se io potessi fare un filmino all'indietro nel tempo vedrei l'universo contrarsi vedrei quindi l'universo ora si sta espandendo ma chiaramente se potessi andare indietro nel tempo si contrarebbe, 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 contrarebbe contrarebbe fino a quando beh qui nasce l'ipotesi del Big Bang l'universo nasce da una singolarità un punto estremamente piccolo se volete caldissimo a temperatura e energie enormi da cui parte l'espansione che lo porta ad avere la forma che vediamo oggi questo viene spesso rappresentato da questi schemi a palloncino se volete l'universo che si espande man mano che passa il tempo in questa formula in cui la velocità è legata alla distanza da una costante di proporzionalità la costante è la dimensione di universo di un tempo per cui se volete fare 1 fratto h è una buona approssimazione dell'età dell'universo in realtà il calcolo poi va fatto bene in relatività generale come ci insegnò Einstein ma insomma 1 fratto h è una stima ragionevole dell'età dell'universo in prima approssimazione l'età dell'universo è quindi circa 13 miliardi di anni questo è il telescopio di Mount Wilson con cui Hubble ottenne queste misure benissimo quindi siamo portati a un universo per nulla statico un universo che si espande e che cambia molto durante la storia di questi miliardi di anni in questo diagramma è mostrata la storia dell'universo quindi in questo diagramma vediamo sulla destra come appare oggi popolato da stelle e galassie ma se andasse immediato nel tempo vedremo quindi l'universo sempre più contratto sempre più contratto sempre più contratto a partire da questa singolarità iniziale caldissima energia enormi è chiaro che quindi l'universo ha attraversato delle fasi estremamente diverse quando era piccolo e nelle fasi iniziali caldissimo con temperature enormi non si potevano avere aggregati macroscopici di materia perché la termodinamica ci dice essenzialmente facendola molto semplice che temperatura corrisponde a grandi velocità quindi quando un oggetto è molto caldo è difficile creare degli stati legati perché c'è questa grande energia cinetica in gioco sto semplificando un pochino comunque man mano che quindi l'universo si espande e si raffredda si espande e si raffredda diventa sempre più possibile creare degli aggregati via via quindi l'universo passa attraverso varie fasi nelle quali via via si creano degli aggregati sempre più macroscopici e andremo appunto a fare questo percorso per capire insieme quando si sono formate varie cose qui c'è una scala temporale vedete 10 alla meno 32 secondi dal Big Bang un microsecondo 0,01 secondi dal Big Bang 3 minuti dal Big Bang e così via sono varie fasi in cui succedono varie cose varie cose perché cambia l'energia totale la temperatura in gioco temperature più piccole consentono di creare degli aggregati che adesso appunto andremo a vedere come per poter fare questi studi che appunto voglio cominciare ad illustrarvi occorre chiedersi come si può studiare osservare l'universo e quindi capire alcune delle cose che stavamo menzionando beh una cosa ovvia delle sorgenti che vediamo nel cielo e che già colpì gli uomini primitivi era che le sorgenti nel cielo emettono luce luce nella banda visibile appunto che i nostri occhi poi si sono evoluti a vedere quindi per osservare l'universo e le sorgenti nel cosmo si può raccogliere la luce elettromagnetica che viene emessa quindi si possono costruire telescopi l'occhio umano va benissimo un ottimo raccoglitore di luce ma chiaramente se costruiamo degli oggetti più grandi di un occhio raccogliamo più luce quindi siamo in grado di vedere anche oggetti più deboli per esempio e qui vedete quindi vari tipi di telescopi esistono telescopi che guardano la banda dell'ottico a terra o la banda dell'ottico nello spazio ancora telescopi radio telescopi Cerenkov Cerenkov è un effetto di elettromagnetismo peculiare su cui ritornerò un po' più avanti comunque spesso questi telescopi che sono alla fine della fiera degli specchi in molti casi se volete per esempio quelli ottici sono corredati anche da degli strumenti che non solo raccolgono la luce ma che la trasformano in un segnale elettrico che poi viene digitalizzato e analizzato su un computer alle volte sono corredati anche di spettrografi perché è utile non solo guardare la luce totale integrata ma anche guardarla in varie bande di frequenza appunto per analizzare lo spettro dei vari costituenti o talvolta da polarimetri e così via uno dei motivi per cui si usano tanti telescopi è il fatto che noi viviamo sul pianeta terra parla noi osservatori il pianeta terra è circondato da un'atmosfera e l'atmosfera non è ugualmente trasparente alla luce elettromagnetica in varie frequenze l'atmosfera in effetti è trasparente alla luce nel visibile come sappiamo perché appunto la natura ha fatto evolvere i nostri occhi appunto a vedere bene in questa banda è trasparente a una grossa fetta delle onde radio ma è invece opaca ad altre regioni dello spettro elettromagnetico alla zona dei raggi gamma x dell'ultravioletto a una buona parte dell'infrarosso e alla parte delle onde radio a più grande lunghezza d'onda quindi se uno volesse analizzare la luce visibile o le onde radio può benissimo costruire un telescopio a terra ma se uno vuole analizzare la luce raggi x per esempio occorrerà mandare un telescopio su satellite oltre all'atmosfera altrimenti l'atmosfera e i raggi x si immagia e non è possibile osservarli molti telescopi ottici sono montati anch'essi su satellite nonostante la luce visibile arrivi a terra questo è perché l'atmosfera anche se è trasparente la luce visibile comunque induce delle distorsioni delle parti di assorbimento parte di effetti distorsivi che comunque montando un telescopio su satellite vengono eliminati vi mostro un telescopio che abbiamo qui nelle vicinanze il telescopio dell'osservatorio astronomico regionale del parco dell'Antola perché alcuni esempi che mostrerò sono presi con questo telescopio è un telescopio ottico da 80 centimetri di diametro dello specchio primario e l'osservatorio è qui mostrato in questa bella figura di Andrea e il telescopio è corredato da strumenti per l'acquisizione dei dati e da uno spettrografo stiamo lavorando insieme all'ente parco dell'Antola per poter utilizzare il telescopio da remoto e speriamo che questa cosa possa essere fatta a breve ci si è resi conto che le sorgenti astrofisiche non emettono soltanto luce elettromagnetica ma emettono altri messaggeri possiamo dire e per avere una visione completa delle informazioni che le sorgenti astrofisiche mandano è opportuno anche cercare di raccogliere e analizzare questi altri messaggeri uno di questi sono i raggi cosmici raggi cosmici sono delle particelle possiamo immaginare in questo contesto principalmente dei protoni particelle cariche che viaggiano nella nostra galassia vengono deflesse dei campi magnetici della galassia prima o poi impattano sull'atmosfera impattando sull'atmosfera creano questi sciami che vedete questi sciami poi arrivano sulla superficie terrestre e possono essere analizzati sono peraltro una delle principali sorgenti della radiazione naturale i raggi cosmici sono molto importanti tuttavia essendo particelle cariche deflesse del campo magnetico perdono l'informazione su dov'è la sorgente che li ha prodotti perché appunto venendo deflessi non si riesce più a triangolare lì indietro la loro sorgente altri messaggeri sono i neutrini i neutrini invece sono una particella neutra come dice il nome una particella elementare che ha la caratteristica di interagire pochissimo con la materia pertanto per i neutrini la materia è quasi trasparente loro ci attraversano praticamente senza subire nessuna interazione i rivelatori di neutrini pertanto devono affrontare questo problema che i neutrini interagisce molto poco e per vederlo quindi tipicamente si costruiscono degli enormi apparati per esempio si mettono degli strumenti su un intero pezzo di mare come è il caso mostrato in questa figura un pezzo del Mediterraneo nel caso della collaborazione Km3 e si strumenta per vedere il passaggio del neutrino il neutrino rarissimamente ma ogni tanto interagisce con in questo caso una particella di acqua produce un muone per esempio in questo disegno il muone è una particella carica che viene rivelata viene rivelata tramite l'effetto Cerencoff che ho detto prima l'effetto Cerencoff è l'analogo elettromagnetico un po' della onda d'urto supersonica di un aereo quando un aereo supera la barriera del suono produce questo cono di onda d'urto di pressione che percepiamo come appunto l'onda d'urto dell'aereo l'analogo elettromagnetico è questo una particella sufficientemente veloce produce un cono di luce in questo caso che può essere quindi osservato il fatto che il neutrino sia difficile da osservare tuttavia ha un'altra controparte interagisce talmente poco con la materia che è una sonda molto affidabile nel senso che da dove è prodotto di fatto viaggia indisturbato fino a dove noi lo osserviamo quindi porta un'informazione molto precisa del punto in cui è stato prodotto questo invece i fotoni non sono in grado di farlo la luce elettromagnetica interagisce molto di più con la materia e quindi per esempio un fotone prodotto in un interno stellare subisce un sacco di interazioni prima di uscire il neutrino invece parte dritto e arriva fino a noi e un altro messaggero che si è aggiunto a questa famiglia molto di recente sono le onde gravitazionali da sorgente astrofisica possono partire quindi non solo onde elettromagnetiche ma anche onde gravitazionali l'idea dell'origine delle onde gravitazionali viene dalla relatività generale di Einstein essenzialmente un oggetto massivo deforma lo spazio-tempo possiamo vedere qui per esempio in questo diagramma varie deformazioni indotte per esempio dal sole da una nana bianca da una stella di neutroni da un buco nero via via oggetti più compatti producono deformazioni maggiori dello spazio-tempo comunque insomma l'idea è che un oggetto massivo deforma lo spazio-tempo un po' si può dire come se lo spazio fosse un tappeto elastico ci poggiamo sopra una palla da bullying questo viene deformato più o meno questo è il concetto e fenomeni catastrofici come per esempio una collisione tra due buchi neri quindi due oggetti che già di per sé deformano molto lo spazio-tempo immaginate una collisione una fusione tra buchi neri fa partire delle onde gravitazionali cioè se volete delle distorsioni dello spazio-tempo che viaggiano 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 fino ad arrivare sul pianeta Terra qualche anno fa per la prima volta si è stato in grado di rivelare delle onde gravitazionali i rivelatori di onde gravitazionali sono degli interferometri qui è mostrato Virgo che si trova in Toscana interferometri vuol dire sono due bracci tipicamente per esempio potete immaginare questi bracci percorsi continuamente dalla luce laser che viaggia avanti e indietro avanti e indietro la luce si ricompone nel punto iniziale dopo il viaggio se passa un'onda gravitazionale che deforma lo spazio uno dei due bracci viene la sua lunghezza viene deformata e quindi la luce non arriva più in fase come arrivava prima e quindi questa distorsione della figura di interferenza fa capire che è arrivata un'onda gravitazionale quindi oltre all'onda elettromagnetica dicevamo si aggiungono altri messaggeri che insieme contribuiscono a fornire una visione completa complessiva dei fenomeni astrofisici nel cosmo tuttavia questi questi fenomeni ci consentono di arrivare fino a un certo punto voi sapete che per esempio prendiamo l'onda elettromagnetica voi sapete che la luce viaggia con una velocità finita la velocità della luce appunto più veloce non si può andare quindi osservare una sorgente astrofisica significa osservare la luce di quella sorgente che però ci ha messo un sacco di tempo per arrivare fino a noi se la sorgente è lontana ci vuole un sacco di tempo quindi man mano che andiamo a osservare sorgenti via via più lontane in realtà è come se stessimo facendo una fotografia dell'universo vecchio di com'era l'universo quando quella luce lì è partita e possiamo pensare di prolungare questo giochino andiamo tanto in là tanto in là tanto in là ci arriva la luce da oggetti molto lontani ovvero oggetti molto remoti anche nel tempo tuttavia con la sola radiazione elettromagnetica non possiamo andare indietro fin quanto ci pare i primissimi istanti non sono studiabili in questo modo i primissimi istanti dell'universo subito dopo il Big Bang sono studiabili in un'altra maniera e più indiretta invece vi dicevo il Big Bang corrisponde a un momento di estrema grandissima energia grandissima temperatura e questa grandissima energia grandissima temperatura può essere riprodotta in laboratorio per esempio con le macchine acceleratrici l'acceleratore LHC del CERN a Ginebra è una di queste macchine acceleratrici è un grosso anello dove ci sono degli elettromagneti qui dentro scorrono dei protoni scorrono scorrono vengono accelerati da questi campi elettromagnetici fino ad arrivare a una certa energia quando arrivano a una certa energia i protoni vengono fatti scontrare come rappresentato in questo diagramma lo sconto dei protoni a questa energia provoca appunto un rilascio energetico enorme che consente di produrre una pletora di particelle quindi andiamo a studiare di fatto le particelle in condizioni energetiche che corrispondevano ai primissimi istanti dopo il Big Bang in questo modo indiretto se volete qui c'è il rivelatore CMS che è uno degli esperimenti all'LHC del CERN in cui lavoro anche io qui vedete CMS in visione trasversale dovete immaginarvi dei fasci di protoni che arrivano da entrambi i lati dello schermo interagiscono nella zona centrale e producono questa pletora di particelle le quali una volta prodotte vanno a interagire con i vari strati di materiale che si presentano loro vedete c'è questa struttura cipolla ci sono materiali diversi perché? perché in questo modo particelle diverse prodotte interagiscono in modo diverso con i materiali e dalla loro firma tipica possiamo capire chi sono ci saranno particelle più penetranti che quindi viaggiano più a lungo nei vari materiali altre invece magari che vengono stoppate prima rilasciano tutta la loro energia prima in qualche materiale e così via a seconda di questo tipo di interazioni noi riconosciamo le particelle che sono state prodotte e quindi andiamo a vedere quali tipo di particelle esistevano nei primissimi istanti di vita dell'universo e come interagivano tra di loro come interagivano è fondamentale per capire come si possono legare a formare degli oggetti via via più macroscopici proviamo a fare questo filmino allora partiamo dai primissimi istanti dopo il big bang a grandissime energie come sarà stato fatto l'universo siamo a temperatura di circa 10 alla 12 kelvin siamo a poche frazioni di miliardesimo di secondo dopo il big bang questa viene chiamata l'era delle particelle perché a questa temperatura a questa energia non si possono avere aggregati macroscopici le particelle elementari sono libere ci sono varie reazioni come quelle appunto che si possono studiare agli acceleratori qui c'è uno sketch di un evento ricostruito al computer di queste grandi collisioni e si può ipotizzare appunto che questo universo caldissimo fosse fatto dalle particelle più elementari man mano l'universo poi si espande si raffredda e via via che si raffredda sopravvivono solo un certo numero di particelle che via via possono cominciare ad aggregarsi questo è il giochino che vogliamo provare a fare in queste primissime frazioni dell'universo si ipotizza che oltre alle particelle di materia siano state prodotte ugualmente anche particelle di antimateria che cos'è l'antimateria? allora per farla breve una particella di antimateria è niente di particolarmente diverso da una particella di materia salvo la carica elettrica per le particelle elementari cariche così sono oggetti con la stessa massa stesse proprietà salvo la carica elettrica che è opposta uno dei grossi misteri dell'universo è come mai l'universo sia fatto solo di materia nel senso che attorno a noi quello che vediamo noi stessi è tutto fatto di atomi fatti da un nucleo positivo ed elettroni negativi non si osserva da nessuna parte anti-atomi cioè fatti da un nucleo negativo attorno a cui orbitano degli anti-elettroni positivi tuttavia se ci pensate il fatto che la materia e l'antimateria siano così simili non giustifica perché l'antimateria non ci sia nell'universo ci deve essere successo qualcosa e per quello che possiamo immaginare nei primissimi istanti dopo il Big Bang l'antimateria era stata prodotta immaginiamo però a un certo punto è palesemente sparita perché non c'è più non ci sono gli anti-atomi come mai sia sparita è uno dei grossi misteri che ancora non è stato risolto l'idea probabilmente è che particelle di materia e antimateria interagissero tra di loro quando interagiscono tra di loro si annichilano creando radiazione elettromagnetica se c'era una leggera disparità iniziale tra il loro numero la materia le antimateria si è tutta annichilata e sono rimaste le particelle di materia in numero pari alla differenza iniziale tra questi costituenti questa differenza appunto non abbiamo ancora idea del perché in ogni caso possiamo dire che da queste temperature enormi più piano l'universo si raffredda un universo che rimane popolato dalle particelle più leggere di questo tipo quindi piano piano spariscono i quark strani spariscono le particelle più pesanti rimangono alla fine della fiera protoni neutroni oggetti che poi in realtà conosciamo l'universo continua ancora a raffreddarsi e quando finalmente scende alla temperatura di 10 alla 9 Kelvin sotto 10 alla 9 Kelvin può avere la formazione per la prima volta nella storia dell'universo di un nucleo atomico un nucleo è un oggetto quindi in cui sono legati i protoni e i neutroni fino ad ora questi erano slegati perché l'energia era troppo grande per poter avere un aggregato di questo tipo ma finalmente in questa fase la temperatura è tale che si può creare un primo nucleo il nucleo più semplice è il nucleo di Deuterio che si compone da un neutrone o da un protone tuttavia per ragioni energetiche il nucleo che si è formato in questa fase è il nucleo di Helio 4 perché è decisamente quello più stabilmente legato quindi dal punto di vista energetico è quello più favorevole da creare quindi possiamo immaginare che in questa fase neutroni e protoni si aggreghino a fare un nucleo di Helio 4 per il quale servono due neutroni e due protoni questa nucleosintesi viene chiamata nucleosintesi primordiale avvenne sicuramente entro un quarto d'ora dal Big Bang perché? perché il neutrone se lasciato libero non è la pratica la stabile il neutrone decadrebbe di suo si trasformerebbe in un protone più altre cose pertanto oltre un quarto d'ora dal Big Bang tutti i neutroni sparirebbero decadrebbero ma il fatto che attorno a noi i neutroni ce ne sono molti degli atomi che ci compongono contengono neutroni vuol dire che parecchi neutroni sono sopravvissuti quindi i primi nuclei entro i quali i neutroni evidentemente imprigionati sono riusciti a sopravvivere i primi nuclei devono essersi formati prima di un quarto d'ora dal Big Bang e appunto queste condizioni di temperatura ed energia verosimilmente furono possibili a tre minuti dal Big Bang quindi diciamo che effettivamente i primi nuclei nacquero a tre minuti dal Big Bang e tutti i neutroni che ci compongono sono tutti e soli i neutroni salvati in quell'epoca lì quindi già abbiamo capito da dove venga almeno una parte delle cose che ci compongono i neutroni che ci compongono sono quelli sopravvissuti a quest'epoca primordiale comunque per ora abbiamo capito soltanto da dove vengono protoni e neutroni che rappresentano il nucleo dell'idrogeno e il nucleo di elio in questo contesto di altri elementi chimici cui non vi ho parlato ed in effetti verosimilmente in questa fase altri elementi chimici non se ne erano formati qualche traccia di litio e beriglio ma insomma essenzialmente elio 4 fu il prodotto finale quindi questo universo che come elementi conteneva nuclei di idrogeno e nuclei di elio continua a raffreddarsi ad espandersi e per parecchio tempo non succede nulla l'aggregato macroscopico successivo che si potrà formare è l'atomo in cui il nucleo cattura degli elettroni ma le energie di legame atomiche sono tali che si possono formare a temperature molto più fredde qualche migliaio di gradi kelvin quindi dai 10 alla 9 dobbiamo scendere parecchio l'universo si deve espandere parecchio raffreddare parecchio fino a quando si formano gli atomi finalmente quando la temperatura è di qualche migliaio di gradi kelvin si formano gli atomi quindi nuclei che catturano elettroni a questo punto la materia che fino ad allora era elettricamente carica perché avevamo i nuclei positivi e gli elettroni negativi la materia che fino ad allora era elettricamente carica improvvisamente diventa elettricamente neutra l'atomo è neutro un nucleo positivo elettroni negativi questo ha un impatto fondamentale per il prosieguo della stella dell'universo a questo punto l'universo che fino a quel momento lì era fatto da nuclei positivi elettroni e poi c'era radiazione elettromagnetica per esempio fotoni aveva materia e radiazione elettromagnetica che erano in equilibrio termico perché il fatto che ci fosse materia carica consentiva interazione con i fotoni quando la materia diventa neutra improvvisamente per i fotoni l'universo diventa trasparente cessano su grande scala le interazioni tra i fotoni e la materia su grande scala perché localmente interazioni sono sempre possibili ma su grande scala fotoni e materia cessano di interagire per i fotoni l'universo improvvisamente diventa trasparente quindi c'è tutta una serie di fotoni che da quel momento lì in poi non hanno mai più interagito con la materia quel momento lì è circa 400 mila anni dopo il Big Bang da quel momento 400 mila anni dopo il Big Bang che nella storia di 13 miliardi di anni è una frazione minuscola comunque da quel momento lì in avanti c'è tutto un gas di fotoni che non ha mai più interagito con la materia questo gas di fotoni effettivamente dovrebbe essere osservabile a questo punto perché permea l'universo e continua ad attraversarlo senza interagire salvo appunto fenomeni locali come vi dicevo questo gas è stato effettivamente osservato tra l'altro per caso come talvolta accade è stato osservato nella nella banda delle microonde e oggigiorno le misure si sono raffinate questa è la mappa di cielo la mappa bidimensionale della sfera celeste di questo gas di fotoni come misurato dalla sonda Planck nelle microonde questo è il più vecchio segnale di fotoni che possiamo sperare di osservare nella storia dell'universo quindi i fotoni la luce che vediamo stelle, galassie se andiamo più indietro più indietro più indietro come sarà beh i fotoni più vecchi che possiamo osservare sono questi della radiazione cosmica di fondo più indietro di 400 milioni del Big Bang non possiamo andare non con i fotoni i fotoni precedenti quell'epoca non esistono più perché interagivano con la materia e si sono scontrati con essa una cosa interessante di questa mappa del cielo di fotoni osservata da Planck è che è un universo estremamente uniforme non fatevi forviare da questa differenza di colori questa mappa è fatta con una differenza di colori minuscola queste differenze tra le zone rosse e le zone blu rappresentano temperature diverse di questo gas di fotoni ma le diversità sono dell'ordine di una parte su 10 alla 5 quindi sono differenze minuscole quindi questo gas di fotoni porta ad un gas vi dicevo molto molto uniforme siccome questi fotoni da allora non hanno mai più interagito con la materia si può pensare che anche la materia in quel momento lì avesse una distribuzione analoga perché subito prima ancora interagiva con i fotoni e quindi era in equilibrio termodinamico con essi quindi vuol dire che questa fotografia se volete se do fotoni possiamo chiamarla così questa fotografia dell'universo primordiale corrisponde anche alla distribuzione di materia che c'era in quel momento lì la materia quindi appariva estremamente uniforme ma con delle piccolissime disuniformità di un fattore molto piccolo come vi ho detto ma non trascurabili non zero e il fatto che la materia fosse distribuita con una leggera disuniformità è fondamentale per la storia dell'universo successivo perché se avessimo avuto una distribuzione di materia perfettamente omogenea e uniforme non sarebbe più successo nulla l'universo sarebbe andato incontro ad un destino molto piatto non sarebbe più successo nulla mentre invece se c'erano delle piccole disuniformità e quindi delle zone magari localmente un po' più dense di materia dell'altra localmente meno dense allora le zone localmente più dense di materia hanno cominciato ad attrarre per attrazione gravitazionale materia dalle zone localmente meno dense circostanti quindi ha cominciato un collasso gravitazionale verso le zone localmente più dense questo in ultima analisi porta alla formazione delle prime stelle come vedremo quindi il fatto che ci fossero queste piccole disuniformità è fondamentale per il proseguire l'universo altrimenti non sarebbero nate le stelle le galassie nemmeno noi ma le piccole disuniformità che erano presenti fanno sì che siano potute nascere invece delle stelle per collasso gravitazionale verso zone localmente più dense di questo gas iniziale qui mostro due foto prese col telescopio dell'antola di due nebulose dove possiamo immaginare stiano nascendo delle stelle sono nebule di gas l'universo primordiale conteneva gas dicevo di protoni e nuclei di elio con questo gas se immaginiamo protoni per semplicità appunto in zone localmente un po' più dense inizia con l'asso gravitazionale e oggigiorno ancora in varie nebule sta succedendo cose simili magari nebule nel frattempo arricchite di altri elementi come vedremo ma insomma l'idea è la stessa un collasso gravitazionale materia che collassa verso il nucleo attrattore perché ho detto che questo porta alla nascita di una stella beh perché a un certo punto questo collasso gravitazionale continua 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 quindi gli strati esterni schiacciano la parte centrale e la parte centrale si riscalda grazie a questo schiacciamento si riscalda si riscalda si riscalda fino a quando? beh fino a che a un certo punto la temperatura là in mezzo diventa talmente elevata che cominciano le fusioni nucleari tra i protoni i protoni cominciano a fondere di nuovo riproducendo elio ricominciano a fondere a questo punto si raggiunge un equilibrio tra il collasso gravitazionale che spinge verso dentro e una pressione dovuta a questa enorme energia rilasciata delle fusioni nucleari verso fuori a quel punto nasce una stella una stella è un oggetto che vive nell'equilibrio tra il collasso gravitazionale degli strati esterni che spingono verso dentro e la pressione dovuta alle fusioni nucleari che spinge verso fuori una stella quindi da una nebula nasce quando inizia questo equilibrio idrodinamico l'equilibrio appunto è dovuto alle fusioni di protoni ad aree elio quindi non abbiamo ancora capito come nascono gli elementi oltre l'elio siamo un po' ritornati un po' indietro tuttavia a un certo punto i protoni da fondere non saranno infiniti a un certo punto queste fusioni finiscono e cosa succede? beh quando le fusioni di protoni a produrre l'elio 4 finiscono succede che il collasso gravitazionale può ripartire un'altra volta e a questo punto gli strati esterni della stella rischiacciano di nuovo il nucleo iniziale della stella alla fine della fiera succede che si raggiunge nel nucleo centrale di nuovo temperatura sufficiente per avviare altre fusioni nucleari questa volta i residui delle fusioni precedenti nel primo stadio iniziano a loro volta a fondere serve una temperatura grande ma insomma con questo giochino la si può raggiungere e la fusione di l'elio 4 porta alla formazione del carbonio per la prima volta nella storia dell'universo compare il carbonio che nasce quindi in stelle che hanno abbandonato la prima fase finita la fase di bruciamento dei protoni successivamente iniziano la fase di bruciamento dell'elio a produrre carbonio e a un certo punto il gioco si ripete poi terminerà anche questa possibilità ma le stelle potranno se hanno abbastanza materia da fare schiacciare la parte centrale da fondere anche il carbonio potranno dare origine alla formazione di elementi via via più pesanti in effetti questo giochino lo riescono a fare le stelle più massicce le stelle che per qualche ragione nella lebula originaria nascono molto grandi con molta massa sono in grado di fare questo giochino più volte quindi partire dalla fusione di protoni negli O4 poi elio in carbonio poi il carbonio e ossigeno per il carbonio ossigeno neon poi il silicio poi il ferro eccetera no eccetera no perché in realtà la fisica nucleare ci insegna che le fusioni nucleari sono esoenergetiche solo fino a un certo punto qui in questo diagramma avete l'energia di legame nucleare le fusioni quindi da un oggetto più piccolo a formare uno più grande sono esoenergetiche fino al ferro ferro 56 oltre al ferro 56 le fusioni non sono più esoenergetiche quindi in realtà le stelle possono usufruire di questo giochino soltanto fino al ferro il resto della curva dell'energia di legame nucleare vedete che scende e in effetti la parte terminale di questa curva è quella che viene utilizzata nelle centrali nucleari per produrre energia in verso opposto da un nucleo più pesante scindendolo in nuclei più piccoli e questo vedete rilascia energia quindi produzione di energia per via nucleare si ottiene per fissione percorrendo la curva in questa parte o per fusione dall'altra le stelle usano la fusione e lo possono fare fino al ferro tra l'altro tutti gli scalini fino al ferro li riescono a percorrere solo le stelle più massicce perché hanno massa sufficiente per schiacciare la parte centrale affondere anche gli elementi pesanti le stelle più piccoline tra queste il sole non sono in grado di percorrere tutto questo scalino le stelle più piccoline molte si fermano allo stadio della produzione del carbonio dopodiché non riescono più a proseguire e quindi questo giustifica perché in questo diagramma del ciclo vitale di una stella ci sono due rami uno per le stelle più piccoline uno per le stelle più grande comunque insomma il giochino e le stelle possono percorrere vari stadi in cui arrivano a produrre vari elementi ma a un certo punto prima o poi questo giochino finisce o finisce perché arrivano al ferro non possono più fare altro e a questo punto il collasso gravitazionale non più stoppato perché non ci sono più fusioni nucleari dà origine a fenomeni esplosivi scenografici come quello della supernova che può originare poi una stella di neutroni un buco nero mentre le stelle più piccole danno origine a un rilascio degli strati più esterni sotto forma di nebulose planetarie e rimane come residuo una nana bianca quindi il sole percorrerà il primo stadio tra un parecchio tempo diventerà una nana bianca mentre le stelle più massive possono arrivare alla fase esplosiva di supernova e poi diventare stelle di neutroni o buchi neri qui mostro due foto di nebulose planetarie che è un po' il destino che attenderà le stelle come il sole essenzialmente quindi raggiungono la fase di produzione del carbonio e dell'ossigeno ma poi non hanno massa sufficiente per andare oltre vanno incontro ad una fase esplosiva meno scenografica di una supernova detto meglio espulsione degli strati esterni che diventano questo oggetto molto scenografico le nebulose planetarie e il nocciolo che rimane della stella diventa una nana bianca mentre le stelle più massicce vanno incontro a questa fase esplosiva di supernova che lanciano lo spazio circostante vario materiale espulso dalla stella e origina delle nebule anche queste molto scenografiche da vedere qui per esempio c'è la nebulosa velo sempre osservata con il nostro telescopio questa esplose moltissimo tempo fa e lo capiamo anche perché è molto molto espansa insomma una volta avuta la fase esplosiva questa nebula espulsa si espande si espande si espande questa nebulosa velo è molto molto grande tant'è che qui ce n'è solo una parte mentre altre supernova esplose in tempi più recenti hanno ancora una strada un po' più compatto questa è la nebulosa del granchio che esplose nel medioevo e ne abbiamo testimonianze storiche per esempio gli astrologi cinesi che monitoravano costantemente il cielo per fare l'oroscopo si accortano a un certo punto che compariva una stella nuova in un certo punto appunto il nome supernova viene da lì un oggetto nuovo super molto luminoso la supernova e appunto queste sono le cronache cinesi dell'epoca che riportano questa osservazione e da quell'esplosione poi oggigiorno vediamo questa nebula il residuo di supernova che corrisponde nelle fasi esplosive di supernova c'è energia sufficiente perché si creano alcuni elementi oltre al ferro in effetti vi ho detto che il giochino delle fusioni per le stelle consente di arrivare fino al ferro 56 gli elementi oltre al ferro non si possono formare in questa maniera quindi capiamo intanto come si formano alcuni elementi carbonio ossigeno silice va bene ma oltre al ferro ancora non non abbiamo capito tuttavia almeno il fenomeno di supernova può essere responsabile di una parte della formazione degli elementi oltre al ferro possono avvenire dei processi nucleari decadimento beta che porta alla formazione di questi elementi un decadimento beta di fatto corrisponde a flippare un neutrino in protone e quando flippi un neutrino in protone cambi la specie chimica quindi sali in una tavola periodica quindi puoi creare elementi successivi al ferro ma questo meccanismo che comunque è responsabile della formazione di alcuni elementi oltre al ferro non è ancora ritenuto sufficiente dobbiamo ancora capire delle cose per giustificare la presenza dell'universo di elementi oltre al ferro per esempio l'oro e tra quelli più famosi beh la risposta dove si sono originati elementi oltre al ferro viene ottenuta nell'estate del 2017 quando viene osservata una onda gravitazionale dovuta alla fusione di due stelle di neutroni l'astronomia con le onde gravitazionali è nata da poco e nel 2017 era veramente agli albori ma appunto fu in grado di osservare questa onda gravitazionale generata appunto da una fusione di stelle di neutroni partì quindi un segnale che disse anche ai vari telescopi elettromagnetici guardate c'è stata un'onda gravitazionale proviamo a vedere se c'è una controparte di onde elettromagnetiche che arrivano da quella zona quindi vari telescopi elettromagnetici si accorsero che in questa galassia dove fino a studiata e monitorata da un sacco di tempo comparve questo nuovo pallino molto luminoso che prima non c'era questo è appunto verosimilmente la controparte elettromagnetica della sorgente di onde gravitazionali questo oggetto venne monitorato per vari giorni qui vedete come appariva il 22 agosto il 26 agosto il 28 agosto e vedete che questo oggetto cambia nel tempo cambia colore cambia forma quindi vuol dire che lì dentro stavano avvenendo in quei giorni vari processi varie reazioni che ne giustificavano questo cambiamento e in effetti l'analisi di questi di queste segnali elettromagnetici ha rivelato per esempio la presenza di oro lì dentro quindi la risposta dove è nato l'oro nella storia dell'universo beh da fusioni di neutroni fusioni di di stelle di neutroni fusioni di stelle di neutroni di questo tipo sono in grado di produrre di giustificare quantità molto grandi di europio di oro di vari altri elementi per inciso questi fenomeni hanno portato alla nascita di una nuova scienza la cosiddetta astronomia multimessaggeri cioè un'astronomia nella quale si utilizzano contemporaneamente le onde gravitazionali e le onde elettromagnetiche per studiare lo stesso fenomeno e quindi si aumenta il ventaglio di informazioni che si captano da questi fenomeni non analizzandole solo i fotoni non analizzandole solo le onde gravitazionali ma analizzandole insieme ricavando informazioni congiunte qui vedete la tavola periodica che tutti conoscevamo da scuola colorata con colori diversi a seconda dell'origine nella storia dell'universo dei vari elementi se siete curiosi cercate il vostro elemento preferito e vedete che origine ha l'idrogeno e l'elio di origine cosmologica vedete in azzurro dalle fasi primordiali del Big Bang altri elementi per esempio da inverdino il carbonio fasi di stelle di bassa massa e vedete in porpora compaiono un sacco di elementi originati dalla fusione di stelle di neutroni quindi il vostro corpo il mio corpo sono fatti da vari elementi chimici questi elementi hanno percorso una lunghissima storia per arrivare fino a noi e alcuni sono fatti alcuni hanno avuto origine da fenomeni catastrofici nella storia dell'universo altri da fenomeni stellari comunque scenografici e così via e quindi è interessante capire come parte del vostro corpo abbiano avuto un'origine così così esotica e quindi questi elementi sparpagliati da qualche fenomeno astrofisico nella storia dell'universo hanno poi contribuito a formare una nebulosa dalla quale è nato il sole il sistema planetario che lo circonda tra cui la terra e quindi anche noi che qui ci viviamo una domanda successiva naturalmente una volta capito come nascono gli elementi è anche capire come si formano le molecole complesse che contengono questi elementi e questo è un gioco parecchio più difficile la chimica ci insegna che per formare delle molecole servono condizioni di temperatura e di pressione particolari condizioni di temperatura e di pressione che nell'universo tipicamente non ci sono lo spazio interstellare molto freddo con pressioni molto piccole che sono proprio quello contrario a quello che servirebbe alla chimica però molecole complesse se non servono tantissime e addirittura se servono segnature come per esempio quella del monossido di carbonio riportata in questo diagramma già nell'universo primordiale e quindi qui l'astrochimica ha un compito molto difficile di capire come si siano potute formare molecole in condizioni avverse come quelle dello spazio e un'altra cosa ancora intrigante è capire come si siano formate le macromolecole che poi portano alle molecole biologiche la vita sulla terra per come la conosciamo che peraltro è già molto variegata comunque ha scelto evidentemente la chimica del carbonio quindi si formano queste grosse molecole lunghe catene con il carbonio e verosimilmente questo è dovuto al fatto che la vita implica dover convogliare un sacco di informazioni e per un sacco di informazioni servono molecole complesse il carbonio si presta bene perché è un elemento tetravalente si presta bene a fare tanti legami e a costruire quindi queste catene complesse naturalmente uno si può anche chiedere se questa sia stata l'unica soluzione sulla terra è andato così ma può essere che magari ci siano altre forme più esotiche che abbiano scelto altri elementi come base della vita un altro elemento tetravalente è il silicio potrebbero per assurdo esistere forme di vita esotiche basate sul silicio tuttavia abbiamo detto che nella storia dell'universo il carbonio è stato prodotto abbastanza rapidamente nella vita nei cicli stellari il silicio che è più massivo è stato prodotto soltanto da stelle le più massive quindi l'abbondanza del silicio è molto minore rispetto a quella del carbonio poi è una molecola più grande quindi forse si presta meno ma insomma sono ragionamenti così giusto per curiosità di cui io non sono per nulla esperto però insomma è una curiosità molto stimolante capire come hanno avuto origine anche le macromolecole biologiche perché appunto siano stati scelti proprio alcuni elementi e non altri per formare queste macromolecole comunque sapete uno dei temi di ricerca di oggi è sicuramente una cosa che ha sempre interrogato l'uomo capire se ci sono altri mondi simili alla Terra che possano ipoteticamente ospitare vita e in effetti da una ventina d'anni sappiamo che il sistema solare non è unico che ci sono molti sistemi planetari che si stanno studiando e sistemi planetari che mostrano pianeti di varia gamma alcuni dei quali potrebbero assomigliare alla Terra assomigliare in questo senso dicevo specificamente per quanto riguarda possibilità di ospitare forme di vita la vita sulla Terra è probabilmente una storia molto complicata dovuta a condizioni peculiari della Terra ma per avere la vita almeno come la concepiamo noi servono condizioni di temperatura per avere l'acqua liquida quindi un pianeta ipoteticamente che debba ospitare la vita evidentemente deve trovarsi a una distanza dalla sua stella ospite tale che la temperatura sia quella giusta quindi si definiscono varie fasce di abitabilità negli altri sistemi planetari e si cercano ipotetici pianeti come si cercano i pianeti in sistemi planetari diversi beh con metodi indiretti tipicamente perché siamo talmente a distanza talmente grandi che metodi diretti di osservazione come vediamo Marte e Giove non funzionano uno dei metodi è quello del transito che è essenzialmente un metodo di eclisse tu monitori la luce della stella per tanto tempo quando le passa davanti a un pianeta la oscura un po' riduce la sua luminosità e tu dalla riduzione di luminosità capisci che le hai passato davanti a un pianeta tra l'altro se questo giochino lo fai in varie bande di lunghezza d'onda non solo in una se il pianeta ha un'atmosfera il pianeta ti apparirà più grande o più piccolo cioè indurrà un abbassamento della luminosità maggiore o minore a seconda che la sua atmosfera sia più o meno trasparente a queste lunghezze d'onda qui vedete un disegno se un pianeta ha un'atmosfera e quell'atmosfera è opaca a una certa lunghezza d'onda in quella lunghezza d'onda il pianeta apparirà più grande se quell'atmosfera invece trasparente a una certa altra lunghezza d'onda in quell'altra lunghezza d'onda ti apparirà più piccolo e quindi analizzando i transiti non in una ma in più bande di frequenza capisci se c'è un'atmosfera che tipo di proprietà di trasmissione ha alle varie lunghezze d'onda e se vai a fare un'analisi dettagliata con uno spettrografo per capire proprio le segnature spettrali di questa atmosfera e ovviamente il sogno è trovare segnature spettrali di molecole che siano in qualche modo corrispondenti alle forme di vita come almeno conosciamo sulla Terra qui ci sono gli spettri di Venere la Terra e Marte quindi sappiamo come sono fatti gli spettri dei nostri pianeti e possiamo cercare se ci sono pianeti che hanno queste analogie benissimo praticamente finito vi volevo però dire due parole addizionali su cose che dell'universo invece non conosciamo abbiamo quindi con questo percorso visto che capiamo tante cose dell'universo capiamo come siamo fatti noi come è fatta la materia come sono fatte le stelle i pianeti anche cose esotiche come i buchinieri e così via tuttavia ci siamo resi conto che in realtà questa materia che conosciamo così bene ancora rappresenta una parte molto molto piccola dell'universo c'è una grossa fetta dell'universo che non conosciamo ce ne si è resi conto che esiste altro nell'universo da fenomeni indiretti per esempio se si prende una tipica galassia spirale come questa mostrata in figura si può calcolare molto facilmente con delle formule semplici di fisica del liceo a che velocità dovrebbero ruotare le stelle via via più lontane dai bordi della galassia in base alla massa che attrae gravitazionalmente all'interno puoi capire con quale velocità devono ruotare gli oggetti a una certa distanza dal centro quindi la teoria ti consente di calcolare delle certe velocità di rotazione quando vai a misurare invece queste velocità di rotazione trovi delle velocità radicalmente diverse molto più grandi gli oggetti ruotano molto più veloce di quello che ti attenderesti in base alla fisica conosciuta la spiegazione che ci si è date è che in realtà esista molta più massa là dentro rispetto a quella luminosa che vediamo dovuta alle stelle della massa della materia che chiamiamo oscura che evidentemente non è fatta dalla materia che conosciamo non è fatta ad atomi perché altrimenti la vedremmo è fatta da qualcosa di più esotico non sappiamo cosa la chiamiamo materia oscura ma onestamente non sappiamo di cosa si tratta e palesemente ne serve tanta questo è solo uno dei fenomeni che puntano a pensare l'esistenza di materia oscura ce ne sono altri complessivamente si ipotizza che la materia oscura rappresenti cinque volte tanto la materia ordinaria ce ne è cinque volte tanto quindi la materia ordinaria atomi alla fine della fiera che conosciamo bene sono una piccola parte della materia totale e la cosa peggiore è che oltre alla materia oscura di cui non sappiamo niente esiste qualcos'altro di ancora più esotico che chiamiamo energia oscura di cui sappiamo ancora meno se è possibile in effetti se riprendiamo il diagramma di Hubble che vi ho fatto vedere poco tempo fa con la velocità e la distanza delle galassie Hubble all'epoca lo fece su un certo numero di galassie relativamente vicine che riusciva a vedere col telescopio dell'epoca nel frattempo i telescopi sono diventati più potenti la tecnologia è più potente si è potuta andare a estendere il diagramma di Hubble più in là e quella che nella parte iniziale dell'universo locale appariva come una retta nel diagramma di Hubble ci si è resi conto che devia da una retta quindi un'espansione all'Hubble che appariva uniforme adesso ci rendiamo conto che uniforme non è è un'espansione accelerata questa è stata una grossa sorpresa di una ventina di anni fa tra l'altro in modo naive effettivamente che l'espansione dell'universo fosse uniforme lo si poteva immaginare che non fosse così perché beh l'universo è fatto da galassie adesso le galassie se non altro tra di loro si attraggono per attrazione gravitazionale quindi se dobbiamo immaginare un'espansione ce l'immagineremo rallentata per il fatto che le galassie si attraggono poi una verso l'altra e invece quello che si asserda è che è un'espansione per nulla rallentata anzi accelerata quindi vuol dire che esiste qualcosa qualche forma di energia che contrasta e domina la gravità e consente all'universo di espandersi in modo accelerato cosa sia non lo sappiamo la chiamiamo energia oscura e ci rendiamo conto che l'energia oscura rappresenta quasi il 70% dell'universo quindi alla fine della fiera il 70% dell'energia oscura e il 25% della materia oscura globalmente insomma il 95% dell'universo c'è completamente ignoto la materia che conosciamo rappresenta solo il 5% scarso dell'universo c'è quindi ancora molto da fare molto da studiare ci sono grandi sforzi sperimentali e teorici ne cito uno giusto perché a Genova siamo entrati in questa collaborazione Euclid Euclid sarà un telescopio lanciato su satellite l'anno prossimo che sperabilmente aiuterà insieme ad altri esperimenti a capire qualcosa di più di questi due oggetti e come vi dicevo insomma a Genova facciamo varie cose di astrofisica e volevamo organizzare il settembre scorso una bella conferenza internazionale di astrofisica astronomia multimessaggero specificamente assessorilevante purtroppo la pandemia ci ha costretto a cancellare questa conferenza proviamo a riproporla settembre prossimo vedremo ma insomma speriamo quindi di avere anche a breve una bella conferenza internazionale di astrofisica qui in Liguria e con questo vi ringrazio ho finito grazie Silvano abbiamo un po' di domande se hai tempo per rispondere una te la faccio vado all'indietro così restiamo più vicini agli argomenti una chiede gli effetti gravitazionali della materia oscura su scala cosmologica si avvertono su scala più piccola del sistema solare allora no gli effetti della materia oscura si percepiscono per varie varie fenomeni sia astrofisici che cosmologici e tipicamente sono effetti su grande scala diciamo tuttavia uno dei modi in cui si può sperare di ricostruire di scoprire la materia oscura è cercare di osservare singole interazioni di particelle di materia oscura con la materia ordinaria quindi questo senso locale cioè ci sono tutto un battaglione di esperimenti che cercano la materia oscura alcuni la cercano sperando che ancora più raramente dei neutrini magari ma ogni tanto la particella di materia oscura interagisca con la materia ordinaria e se ne possa quindi osservare l'interazione questo è uno dei metodi in cui si spera peraltro di osservarle in modo diretto quindi non più suoi effetti indiretti ma effetti diretti ok e un'altra domanda abbiamo parlato di buchi neri ci sono studi che dimostrano l'esistenza dei wormhole un filo fuori tema però se questo è tutto un mondo molto affascinante e sì ci sono ovviamente molti studi teorici e dal punto di vista sperimentale però questo ancora no ma dal punto di vista teorico sicuramente è un un campo molto affascinante quello dei buchi neri è sicuramente un campo molto affascinante perché la fisica che c'è lì dentro è molto esotica rispetto a quella che conosciamo noi e quindi sicuramente ci intriga molto ok e ancora una che è interessante che è qual è l'elemento più pesante presente nel nostro sole adesso? domanda difficile perché nella fotosfera del sole vedi segnature di vari elementi chimici anche alcuni parecchio pesanti adesso quale sia l'elemento più pesante così a memoria non mi ricordo non saprei dire però la cosa carina è che rispetto al giochino che vi ho presentato che vi ha fatto la storia dell'universo quindi di fatto ho giocato sulle prime stelle sono formate quindi dove l'universo conteneva solo protoni in realtà i cicli stellari si sono poi ripetuti più volte quindi il nostro sistema solare è nato da una nebulosa che conteneva anche elementi più pesanti ed è per questo che ne vediamo segnature anche nel sole stesso e tra l'altro peraltro se no sulla terra non li avremmo nemmeno questi elementi più pesanti perché forse per il sole quello sta ancora producendo Helio 4 a partire da protoni quindi ci sono elementi più pesanti ma vengono da cicli stellari precedenti è solo roba che è finita sul sole invece di finire sui pianeti sì sui nostri pianeti gli elementi più pesanti rimano all'uranio insomma certo va bene se non ci sono altre domande io ti ringrazio lascio la parola eventualmente a qualcuno e poi dire che possiamo chiudere la diretta ringrazio tutti quelli che ci hanno sentito sui canali youtube resteremo ancora qua su zoom così a fare un po' di convivialità a fare un po' 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 a fare un po'